Ciao ragazze e ciao ragazzi allora, scusate questa luna in bianco che mi fa diventare il collo ancora più lungo ma c'è il computer sotto di me voglio registrare un altro video e decido di registrare il video il tag del passato le domande le ho prese dal canale di Valentina, quindi Vaxla2007 Vale, ti linkerò il video da qualche parte e ti mando un grosso bacione a te e alle tue bambine Amelie, metti di tu allora, le domande le troverete se volete rispondere a questo tag, giù nell'info box a me farebbe piacere sapere qualcosa di voi magari se non con un video almeno rispondete commentino a qualche di queste domande perché veramente mi farebbe piacere ok, la prima domanda quando sei nata? io sono nata nell'84 di preciso il 16 marzo il tuo cartone animato preferito il mio cartone animato preferito era Sailor Moon assolutamente l'adoravo, mi guardavo tutte le stagioni mia cugina anzi, le registrava pure quindi poi durante i fine settimana non contente delle puntate che abbiamo visto durante la settimana ci andavamo a guardare tutto quello che potevamo nel sabato e la domenica stavamo incolla davanti alla televisione 24 ore su 24 forse dormivamo dormivavamo una mezz'oretta poi adoravo Mille Shiro stupendo Mille Shiro da paura proprio poi che mi piaceva più poi però ero già un pochino più grande mi piacque una porta socchiusa ai confini del sole oppure era carino mi piaceva tanto la Magarina come si chiamava? un incantesimo dischiuso da qualche parte non mi ricordo poi vediamo un po' Maggie e Terry ho dato alla mia prima cagnetta il nome di un cartone animato quindi pensa a te poi la pietra misteriosa dinamico come si chiama? oddio si la pietra misteriosa oddio non mi ricordo si chiama la pietra misteriosa non mi viene in mente in questo momento poi mi piaceva guardavo Gem però ero un po' più piccola quindi non l'ho seguito bene però questa immagine di me che ero molto piccola e guardavo Gem e già dicevo mi voglio fare i capelli rosa ed ero piccola forse mia sorella non era ancora nata poi le di Oscar io adoro quella donna forte coraggiosa non ha paura di niente di nessuno solo dei suoi sentimenti e beh capita mi piaceva e giocavo e giocavo con mia sorella e mia cugina agli occhi di gatto perché noi eravamo tre combina guai quindi ci stava alla perfezione poi vediamo un po' se mi ricordo qualche altro cartone mi ha chiesto che adoravo quando ero più piccola Rossana però ero già un po' più grande quella mi piaceva un sacco perché mi ricordava un po' piccoli problemi di cuore nel disegno anche se poi piccoli problemi di cuore non mi è piaciuto tantissimo però Rossana adora adora la follia e come forse un ultimo qualcosa del genere mi piaceva anche però l'ho seguito poco le Total Spice ero già grande tipo quando lo beccavo in televisione mi piaceva guardarlo forse uno degli ultimi cattoni mati che ho seguito poi come trascorrevi le giornate nel periodo scolastico durante le elementari allora vabbè parto ad andare a scuola al pomeriggio ero impegnata tra il catechismo e il nuoto facevo nuoto durante le elementari invece e studiavo anche alle elementari invece alle medie ero impegnata con la pallavolo e con i rientri scolastici in cui facevo sempre sport e studiavo così durante le scuole superiori studiavo tanto si studiavo tantissimo i primi due anni probabilmente secondo me non sono mai uscita il pomeriggio o barra sera ho iniziato a uscire dopo i 16 17 anni e facevo ovviamente sempre pallavolo studiavo tanto come ho detto si uscivo portavo a spazio il Maggie mi piaceva fare delle belle passeggiate con Maggie quando ero piccola mi vedevo con le mie amiche con mia cugina che era una delle mie migliori amiche anzi quasi una sorella anzi una sorella poi che facevamo più ah andavo a ascoltare le prove dei miei amici che avevano la band rock e i sabati poi quando facevano i concerti o i concerti sia dei miei amici che di altre persone che conoscevano erano tutto a concerto qua avevo il torneo di pallavolo era una donna molto impegnata hai sempre abitato nella stessa casa no quando sono nata abitavo a Picerno in provincia di Potenza ma non ho ricordi di quella casa perché la mia famiglia si è trasferita poi a Battipaia quando avevo solo 20 mesi quindi non mi ricordo niente poi ho vissuto dai 20 mesi fino ai 15-16 anni a Battipaia ho dei ricordi stupendi questa casa che era una specie di villetta una villetta familiare con il giardino papà mi aveva messo l'altalena in giardino venivano i miei amici a giocare facevamo feste ho ricordi stupendi anche del caos che combinavo in casa tra la mia sorella da più piccole con i giochini e da preadolescenti ad adolescenti con i poster dei attori cantanti avevo una stanza che non era la cameretta dove dormivamo ma una stanza a parte che era praticamente tutta tappezzata le pareti il soffitto per terra di poster la porta anche i vetri della finestra wow poi ci siamo trasferiti a Salerno in una casa differente da questa la casa dove inizia a girare registrare i miei primi video i miei primi parecchi video del mio canale e là ci sono stata per un 14 anni super giù ho dei ricordi stupendi legati alla mia prima piccola a Maggie ricordi stupendi anzi ricordi bruttini del mio primo fidanzato serio ricordi stupendi del mio attuale fidanzato degli amici fidanzatini la veramente ho fatto che Maggie mia sia cresciuta e vissuta là me la sento molto come casa anche se era mio affitto quindi non era nostra e poi alla fine ci siamo trasferiti in questo e qua ci siamo da tre anni se non sbaglio eppure mi piace tanto anche se non ricordo brutto su Maggie perché qua ci ho lasciato però in compenso c'è a me lì che riempie il vuoto il nome del tuo primo fidanzatino il mio primo fidanzatino si chiama Alessandro era un compagno di classe di mio cugino Angelo sì praticamente siamo stati insieme per due stati consecutive per me anche durante l'inverno anche se non ci siamo visti per lui no perché ho stato questo insieme un'altra la tua migliore amica a scuola allora quando andavo a scuola elementare anzi sono l'auto una migliore amica sì alle scuole elementare è la mia amica Antonella Pinto proprio di scuola nel senso che io la vedevo a scuola e alcune volte l'avevo conosciuta a scuola eravamo compagni di banco poi l'ho continuata a frequentare anche un pochino dopo poi io trasferendomi non ci siamo più ribeccate l'ho ritrovata all'università però in due corsi di laurea differenti quindi non c'è stato modo di ritornare amiche come prima poi invece fuori da scuola avevo un'amica che risale al tempo dell'asilo praticamente eravamo di rimpettaia sulla stessa strada quindi già l'asilo ci frequentavamo in una poi alle case rispettive e siamo ancora tutto oggi amiche voglio molto bene questa mia amica il tuo colore naturale di capelli questo non l'ho mai cambiato anche se mi è venuto cifizio tante volte di farmi delle ciocche rose o tutta la rosa non l'ho mai fatto non ho il coraggio ricordo più brutto dell'infanzia probabilmente quando mi sono rotta il braccio mi sono rotta entrambe le ossa di questo braccio per una stronzata però il dolore che ricordo e i brutti momenti passati in ospedale rimarrando indelebili in me ricordo più bello dell'infanzia probabilmente l'arrivo di mia sorella a casa ho un ricordo abbastanza sfocati però mi è nida questa cosa di mia madre che mia mamma ha avuto delle complicazioni postpartum di mia sorella quindi è dovuta stare in ospedale per più tempo rispetto al previsto mi aveva detto che nel giro di poco sarebbe tornata dall'acquisto della sorellina si è fatta via forse un mese dopo non mi ricordo quindi ero incazzata con questo cosino piccolo che mi aveva portato via la mia mamma però mi ricordo la prima volta che l'ho presa in braccio l'ho sentito una scossa forte a cuore come dicevo prima non ho ricordi nitidi della mia infanzia ma alcune cose si e questa è una tra quelle il mio vestito di carnevale ho avuto tanti vestiti di carnevale il primo da principessa azzurra insieme in combinato con mio cugino praticamente la mia zia la mamma di mio cugino gli ha fatto il vestito al figlio e a me ed eravamo in coordinato stupendi il secondo sempre una principessa in blu in azzurro Napoli perché me lo andò a comprare mio papà che è tifoso napoletano e quindi quella era la principessa del Napoli poi uno da contessa verde bello mi ricordo pure il cappello da catwoman non so prima da backgirl poi da catwoman poi dopo niente gli altri li ho fatti io tipo da punk con un jeans strappato poi non mi ricordo più alcuni tipo ho fatto anche i video qua sul canale di trucco di make up e outfit magari vi lascio le informative hai mai portato occhiali o apparecchi dei denti assolutamente sì ho messo gli occhiali verso i 6-7 anni e li porto ancora tutt'oggi eccoli qua ho portato anche l'apparecchio sia mobile che quello fisso ma praticamente dopo che ho tolto il fisso mi è nato un dento del giudizio e mi ha buttato all'area anni e anni di lavoro a che età hai iniziato a struccarti? allora volevo iniziarmi a truccare verso la terza media più o meno il mio papà non ha voluto mi ha detto tu imprimo un superiore e ti puoi truccare io me la sono legata al dito e il giorno del primo anno del liceo mi truccai mi misi una matita e basta e andai a scuola da là poi non mi sono fermata più ho sempre aumentato il range di trucchi matita e mascara matita e mascara sovraccidia matita e mascara sovraccidia labbra e poi tutto il viso che lo dice a fare hai avuto animali domestici? sì mecchi? aspetta che stavo dormendo e oh mi licchia ciao mi licchia cambiamento interiore che hai riscontrato crescendo sono diventata molto più pacata non mi fervoro rapidamente ragione conto fino a dieci prima di scatenare l'inferno sono diventata un po' una svizzera rispetto a quando ero più piccola che ero molto più impulsiva ti piacerebbe tornare bambina? direi di no per il semplice fatto che ormai la vita trascorsa è andata non ho rimpianti di sorta non ho rimpianti di sorta mi hanno fatto fare sempre tutto quello che volevo ovviamente nel limite delle regole di casa però ho avuto libertà di giocare di divertirmi di crescere tranquilla di avere anche un animale domestico anche se ero più grande rispetto all'età da bambina no non vorrei ritornare in bambina però ho dei bellissimi ricordi ok vi ribadisco il mio invito a rispondere a queste domande alcune di queste tramite commento se volete commentare o tramite un video e linkato in un commento io ne sarei più che contenta ora vi mando un grosso bacio e finalmente smetto di parlare e mi metto a legare questi video ciao alla prossima in gramba ciao